Anche l'ASD di Brindisi pronta a stabilizzare il personale precario. Dopo che nelle scorse ore la CGL Funzione Pubblica Brindisi aveva lamentato l'allarme sui ritardi e le incertezze per i lavoratori in attesa di una stabilizzazione dal prossimo gennaio. A seguito di un approfondimento e della ratifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2021-23 l'ASD di Brindisi infatti ha comunicato la determinazione a procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario in possesso dei requisiti richiesti. Il direttore generale ci ha già comunicato che il problema è stato risolto e ci auguriamo che la notizia arrivi a consolare chiaramente un quadro sociale anche di preoccupazione dei lavoratori alla luce di un Natale e di uno risultato meritato che aspettano e meritano anche i lavoratori di Brindisi come per altre province. L'ASD Brindisina si è dimostrata ad essere impreparata alla luce di direttive regionali abbastanza chiare che indicavano un processo di stabilizzazione in epilogo al primo gennaio. Siamo intervenuti come funzione pubblica CGL provinciale, abbiamo chiesto di riconsiderare tutti gli impianti dei numeri del personale avente diritto, già in ricognizione. Ci giungono in questi momenti delle notizie di conforto, la regione è intervenuta, abbiamo scritto chiaramente anche al Dipartimento, è intervenuta la FPCGL Puglia. Sembrerebbe, aspettiamo ufficialità, stabilizzati ad ORAS tutti i lavoratori che in questi anni, in periodo pandemico, meritavano chiaramente di essere stabilizzati.